Buongiorno cari telespettatori di Roma 1, benvenuti in un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione in diretta. Vi raccontiamo quello che succede nella nostra città, approfondiamo diversi argomenti in questo spazio. Siamo come sempre in vostra compagnia fino alle 14, poi vi ricordo più tardi oggi è il giorno di Andrea Bozzi con Foro Romano, quest'oggi ospite il presidente del 13esimo municipio. Prima di iniziare, come facciamo ogni giorno, andiamo a vedere quali sono gli argomenti più importanti trattati dalla stampa online. Direi oggi più che mai importante questo spazio perché, come saprete, a causa di uno sciopero dei poligrafici, la maggior parte dei giornali oggi non era in edicola. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera, come sempre d'Orso Romano. Vedete l'apertura è dedicata alla politica, ai comizi conclusivi in vista delle europee. Renzi a Piazza del Popolo, poi Grillo a San Giovanni, ma piove sull'ultima sfida. Renzi che dice ai suoi, qui è nato il sogno europeo, il riferimento appunto è al comizio che c'è stato ieri con il presidente del Consiglio a Piazza del Popolo. Venerdì, cioè oggi, alle 18, invece il comizio di Grillo, attesi migliaia di sostenitori del Movimento 5 Stelle, un concerto prima dell'arrivo del leader. E poi invece di taglio più basso, vedete la questione dell'estate romana, sapete, è un momento difficile dal punto di vista economico per le casse del comune. Chiuso il bando, ci racconta il Corriere della Sera, fondi a parte per teatro e danza. Sono state presentate 236 domande dal Campidoglio, 2 milioni più 700 mila euro per palcoscenici e cinema. Il cartellone al via il 21 di giugno parla l'assessore Flavia Barca, dice spazio ai giovani talenti emergenti. L'apertura di Repubblica, ancora una volta, è dedicata alla manifestazione di ieri di Renzi, al comizio di Piazza, con un aspetto però messo in evidenza, che è quello degli scontri che ci sono stati a margine di questo comizio europeo. Al comizio di Renzi, in Piazza del Popolo, blitz dei movimenti per la casa, 40 fermi, ci sono anche le foto di alcuni momenti di tensione al Palazzo dei Congressi dell'Eur, la manifestazione elettorale di Forza Italia con l'intervento di Silvio Berlusconi. Così chiudiamo un po' il cerchio, come vedete, Renzi ieri a Piazza del Popolo, 5 Stelle questa sera a San Giovanni e invece Berlusconi al Palazzo dei Congressi. Chiudiamo infine con Roma Today, che ha, come spesso capita, quotidiano online, una apertura particolare, dedicata alla street art mania, così la definisce, Roma Today, da Ostienzi al Quadraro, anche Roma è un po' underground e ci racconta appunto come stia dilagando questo tipo di manifestazione artistica decisamente particolare, che sta in qualche modo prendendo piede anche nella nostra città. Allora, ma abbiamo parlato diffusamente in questa rassegna del comizio del Premier Renzi ieri, allora vediamo che cosa è successo anche di quello che è accaduto a margine. C'erano le nostre telecamere, c'era Valentina Renzo Paoli. Fare l'italiano significa essere portatore sano di bellezza, produttore di entusiasmo, capace di restituire dignità e orgoglio. Ecco, noi italiani da Roma, che deve essere Roma capitale dell'Italia e capitale dell'Europa, ci diciamo, o lo fa il PD o non lo fa nessuno. E allora nei prossimi tre giorni tutti insieme a lavoro perché l'Italia canti l'Europa e perché il PD torna a far sperare i nostri figli. Ci prova Matteo Renzi a tirare la volata ai 14 candidati del PD della circoscrizione centro, arrivato con oltre mezz'ora di ritardo davanti ad una piazza del popolo, inizialmente poco affollata, che si è andata scaldando con il passare dei minuti. Nemmeno 40 secondi il discorso del Premier viene disturbato da fischi, urla, trombette. Questa campagna elettorale, la più urlata degli ultimi anni, e non era facile, è una campagna elettorale dove noi continuiamo fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo secondo, a cercare di portare avanti il filo del ragionamento, ma contemporaneamente sorridere a tutti quelli che vengono in piazza in tutte le città a provocarsi e dire che noi siamo più forti delle vostre paure, che siamo più grandi delle vostre provocazioni. La tensione si sposta verso la folla, dove si scatenano tafferugli tra un gruppo di attivisti dei movimenti di lotta per la casa e gli stessi militanti del PD. Inutile l'invito di Renzi a non rispondere alle provocazioni. La tensione è alta fino a quando gli agenti della Digos riescono a spingere i manifestanti fuori dalla folla. Alla fine sono 40 i fermati e nelle prossime ore potrebbero scattare delle denunce. Per terra viene trovato un pugnale con una lama di diversi centimetri. Il comizio di Renzi prosegue trabordati a colui che è individuato come il vero avversario politico, Beppe Grillo. Loro sono la paura, noi la speranza, dice. E poi non manca un omaggio a Enrico Berlinguer. Ieri, in una città alla quale sono particolarmente legato, un signore si è fatto prendere in collo da un altro signore e ha immaginato di evocare il nome di Enrico Berlinguer. Giù le mani d'arte i nomi che non appartengono a chi non ha le enti e 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 a chi non ha le enti. E questo dunque è quello che è accaduto nella serata di ieri, poi vedremo anche che cosa succederà oggi per gli altri comizi conclusivi. Adesso invece torniamo alle nostre cose. Vogliamo infatti parlare di un tema che senz'altro da qui in avanti dovremo affrontare, e cioè il tema del randaggismo perché si avvicina l'estate e si avvicina purtroppo la triste abitudine di abbandonare i cani in mezzo alla strada. Ne parleremo per capire intanto perché è importante prevenire il randaggismo e anche per capire qual è il lavoro dei medici, dei veterinari che ogni giorno seguono lo stato di salute e dei cani che si trovano sia in mezzo alla strada sia ospitati nei canili comunali della nostra città e non soltanto. Ne parliamo con la dottoressa Paola Romagnoli che è la vicepresidente della Cimeve per la Società Italiana di Medicina Veterinaria e Preventiva. Buongiorno, benvenuta nei nostri studi dottoressa Romagnoli. Buongiorno a lei. Dicevamo che è un tema che torna ad attualità intanto ogni estate purtroppo. Una abitudine triste, c'è qualche miglioramento in base ai vostri dati? Cioè gli italiani e i romani hanno imparato a sistemare i loro cani prima delle vacanze invece di abbandonarli in mezzo alle strade? Guardi, se dovessimo rispondere in base ai dati offerti dal Ministero della Salute ma anche dalle associazioni animaliste beh, dovremmo dire che un grande miglioramento purtroppo non c'è stato perché vede a fronte di una grande, grandissima attenzione che il cittadino italiano mostra nei confronti degli animali non stiamo riscontrando un grande rispetto per gli animali, rispetto delle sue esigenze etologiche, delle esigenze psicofisiche e questo lo vediamo per esempio nei servizi veterinari in capo al Servizio Sanitario Nazionale e quindi nelle ASLE con i colleghi che dentro vi lavorano e lo vediamo attraverso per esempio gli esposti che arrivano ai servizi veterinari legati ad una errata convivenza tra l'uomo e l'animale e alla base di un'errata convivenza c'è una mancanza di conoscenza dell'uomo nei confronti dell'animale di consapevolezza che ha dentro casa e vive insieme ad un essere vivente diverso da lui abbiamo quindi una mancanza di educazione abbiamo insieme una mancanza di rispetto e il rispetto è il vero amore quindi al di là di tante chiacere Lei ci sta dicendo dottoressa Romagnoli che a volte è una spinta egoistica quella che ci fa avvicinare a un animale desiderare di averlo in casa lo prendiamo come se fosse un peluche poi ci rendiamo conto che questo animale ha delle esigenze che non corrispondono magari con il nostro stile di vita e da qui nascono i problemi Guardi, in realtà lo dicono proprio delle ricerche e degli specialisti in campo l'aumento degli animali in casa lo abbiamo a seguito di una modificazione della nostra società del nostro sistema sociale siamo più soli, siamo tanti ma fondamentalmente soli la ricerca di un essere vivente con il quale relazionarsi con il quale scambiare affettivamente c'è ma se accanto non c'è una conoscenza ovviamente si fanno degli errori e questi errori ricadono non solo a danno dell'animale ma a danno dell'intera collettività Prima di entrare poi nello specifico dell'importanza quindi di prevenire questi fenomeni capiremo anche quali sono le conseguenze poi cosa succede quando un cane viene abbandonato in strada vorrei capire intanto esattamente di cosa vi occupate voi come Simeve perché è un lavoro particolare quello che fate una società che racchiude dentro sé medici che si occupano, medici veterinari ma veterinaria preventiva che cosa vuol dire, cosa fate? Allora, i nostri associati provengono soprattutto dal mondo della sanità pubblica quindi sono veterinari occupati ed impegnati nel servizio sanitario nazionale quindi nelle ASL, nelle regioni, nel ministero negli istituti zooprofilattici sperimentali la società lavora su due fronti uno è il fronte dell'attività formativa abbiamo un'attività che è certificata nel sistema dell'educazione continua in medicina del ministero della salute ci occupiamo di formare e aggiornare veterinari e professionisti in grado di stare e di prevenire tematiche importanti per la salute del cittadino e dei nostri consumatori e dall'altra quindi come società scientifica mettiamo in essere delle proposte, l'ide guida che vanno anche su tavoli istituzionali anche europei progetti di cooperazione internazionale anche con altri paesi e con altre società scientifiche e perché no abbiamo per esempio messo in piedi delle brochure informative per il cittadino e il consumatore è un lavoro importante questo perché occuparsi della salute degli animali siano essi animali di compagnia ma anche animali evidentemente come ci ha spiegato di allevamento significa occuparsi poi indirettamente della salute anche di noi esseri umani perché c'è una stretta relazione Certo, devo dire che con le loro peculiari azioni di attività di prevenzione e di controllo nel mondo animale beh queste azioni contribuiscono le azioni dei servizi veterinari pubblici contribuiscono molto a determinare un buon stato di salute della popolazione faccio un esempio andare in allevamento e valutare, controllare, valutare il benessere e lo stato di salute degli animali che noi alleviamo significa direttamente fare in modo che malattie infettive come ad esempio penso la brucellosa la tubercolosi non vengano trasmesse alle persone o in maniera diretta o in diretta ad esempio attraverso l'assunzione degli alimenti oppure il controllo dell'alimentazione offerta ai nostri animali in allevamento presenza di piombo, di ossina tutti ricorderanno l'episodio della BSE che poi vengono riversati praticamente negli alimenti di origine animale latte, carne, uova, prodotti ittici, miele che costituiscono poi la dieta giornaliera dei nostri cittadini ma anche nel campo degli animali d'affezione come dicevo prima al di là delle malattie trasmissibili degli animali che ci fanno compagnia all'uomo ci stiamo sempre più occupando di problematiche inerenti proprio la relazione che si instaura tra l'uomo e l'animale d'affezione che dico, ripeto dovrebbe accompagnare uso il condizionale l'animale d'affezione dovrebbe accompagnare gran parte un pezzo della nostra vita allora io avrei tantissime domande per lei intanto no lei ha parlato delle malattie io ricordo qualche anno fa ero ragazzina avevo un cane in casa e qualcuno mi guardava storto perché diceva attenzione il cane in casa porta malattie ecco vorrei intanto chiarire questo aspetto per poi andare invece anche alle questioni che riguardano appunto come abbiamo detto in apertura il randaggismo ma chi sceglie di tenere un cane in casa sceglie di portare in casa delle malattie un cane o anche un gatto perché poi c'è questa diceria credo anche sui gatti guardi assolutamente no perché un essere vivente ammala proprio come ammaliamo noi come noi ci curiamo vengono curati anche gli animali e un proprietario attento promuove ed è attento alla salute del proprio animale come è attento alla propria salute quindi sfatiamo questa cosa anzi puntualizziamo gli effetti positivi che hanno proprio sulla salute delle persone la condivenza con gli animali beh migliorano gli stili di vita per esempio grazie a un cane no che portiamo a fare la passeggiata per i bisogni quotidiani anche di socializzazione almeno quattro volte al giorno miglioriamo il nostro stile di vita camminiamo ma miglioriamo il nostro la nostra socialità con le altre persone noi siamo un mondo di tanti ma anche di tanta solitudine per cui abbiamo un'età media che si sta sempre più elevando abbiamo molta una popolazione di anziani lei ci sta dicendo quindi che il cane per esempio per una persona anziana è un'ottima compagnia perché spinge a uscire ma non solo un'ottima compagnia miglioro stile di vita e la comunicazione ma è proprio ci sono evidenze scientifiche che chi vive con un animale ricorre meno a medicina e al medico accidenti quindi abbiamo completamente ribaltato questa diceria di ormai qualche anno fa che gli animali portano le malattie insomma gli animali curati e seguiti adeguatamente insomma non portano alcun tipo di malattia particolare c'è però un problema che è quello appunto dei cani che vengono presi dalle persone che magari desiderano questo tipo di compagnia però senza tener presente poi le conseguenze perché comunque diventa un impegno importante un cane dentro un'abitazione e insomma spesso poi vengono abbandonati soprattutto nel periodo estivo quando si decide di partire per la villeggiatura il cane diventa un impiccio un problema che succede? che questi cani vengono abbandonati in strada e c'è un problema di randaggismo enorme io leggevo dei dati che mi hanno molto colpito e cioè che vengono stimati in Italia in tutta Italia tra i 300.000 e i 500.000 cani randaggi che circolano nella nostra città e questi sì sono un problema anche di salute credo per noi o no? Sì guardi diciamo che il problema è molto più complesso nel senso che noi già lei deve sapere che i cittadini sicuramente sanno che sono 23 anni che in Italia abbiamo una legge la 281 nata nel 1991 che punta la tutela degli animali d'affezione e lotta al randaggismo ora a distanza di 23 anni non è solo il dato che lei ha fornito di 300 500.000 cani randaggi sul territorio ma un dato preoccupante è quello di 150.000 circa cani che attualmente sono ricoverati nei 915 canili sparsi in tutta Italia ed è stata una legge paradosso perché di tutela dell'animale d'affezione e lotta al randaggismo beh insomma evidentemente ha mostrato delle criticità le criticità una legge di grande civiltà sicuramente ma le criticità probabilmente ci sono state perché non si è partiti da un'analisi della situazione iniziale noi abbiamo avuto come società scientifica un'addizione in Parlamento e partivamo proprio dai dati dai dati che oggi ci sono e sono ad esempio 7 milioni di cittadini proprietari di animali hanno censito e regolarmente anagrafato il proprio animale con un rapporto che varia in funzione delle regioni abbiamo regioni virtuose il Veneto l'Emilia Romagna la Toscana dove abbiamo un rapporto di un proprietario ogni 5-6 abitanti il Piemonte poi abbiamo il Lazio con Lombardia un rapporto 1 a 10 e altre regioni un rapporto 1 a 27 cosa significa? perché è così importante questo discorso dell'anagrafe? è importantissimo perché l'anagrafe canina è il primo strumento preventivo che noi abbiamo per evitare l'abbandono ma diciamo pure non vogliamo parlare di abbandono vogliamo dire che l'animale si è perso ma è il primo strumento che abbiamo per restituirlo al proprietario regione Lazio noi abbiamo circa 12 mila cani ricoverati nella regione Lazio presso i rifugi abbiamo un tasso di restituzione che varia quindi restituzione significa possibilità di riconsegnare l'animale che ritroviamo vagante sul territorio possibilità di consegnarlo a legittimo proprietario abbiamo un tasso di restituzione che varia tra il 5% nella grande città al 25% in provincia quindi un tasso del 12% significa che su 100 cani segnalati vaganti sul territorio segnalati dal cittadino dalle forze dell'ordine dai comuni noi riusciamo su 100 cani a darne solo 12 ritornare 12 proprietari questo perché il proprietario non ha anagrafato presso i servizi veterinari quindi il microcippato inserito in banca dati regionale e poi nazionale non ha anagrafato il proprio animale quindi attraverso questa trasmissione un appello a quei proprietari che ancora non hanno fatto se amate perché poi è un attimo purtroppo soprattutto per chi li ama è un attimo perderli da un grandissimo dolore ovviamente per il padrone che perde il cane ma anche per il cane perché il cane soffre moltissimo legato per sua natura al padrone e quindi è uno strappo dolorosissimo un semplice gesto come quello di anagrafare quindi far mettere questo microchip e identificare sostanzialmente questo cane permette nel caso sfortunato di una perdita di avere delle possibilità di ritrovarlo questo cane sì guardi intanto leggiamo questi appelli disperati ho perso Tobia certo è il caso di poi giorni fa dei colleghi dell'Asle di Firenze sono stati in grado di restituire un cane perso perso rubato non si sa bene le vicende sono complesse spesso da proprietari siciliani diciamo possono esserci un leato fine può esserci però bisogna lavorare in questo senso cosa succede quando però non c'è una soluzione di questo genere il cane finisce nel canile nel canile e lì? e lì è in attesa di essere adottato quindi anche là un'azione di informazione ed educazione del cittadino voglio dire nella regione Lazio noi su 7500 nuovi ingressi ogni anno nei canili abbiamo 5000 adozioni significa questo che l'offerta che c'è è molto più ampia rispetto alla domanda quindi un altro passo importantissimo preventivo è la sterilizzazione del proprio animale perché sa sterilizzare l'animale di proprietà è un altro intervento importantissimo per il discorso del randaggismo per il discorso di svuotare i canili perché sa il cane in strada non è che lo porta la cicogna il cane in strada lo porta l'uomo certo un cane un cane perso o abbandonato le dico subito due femmine perso o abbandonate fertili sono in grado in due anni con le proprie cucciolate e cucciolate delle cucciolate di popolare un canile di media dimensione quindi il secondo atto è la sterilizzazione anche perché il canile ha un costo ha un costo che ricade ovviamente su di noi indirettamente allora io vi vorrei portare con questo breve strato a un lavoro che è stato realizzato dalla nostra redazione giornalistica da Filippo Bellantoni è un approfondimento mi fa piacere mostrarlo anche alla nostra ospite la dottoressa Romagnoli dello specifico della realtà romana dei canili ma insomma che si sposa un po' con questo nostro discorso cioè come vivono e come vengono i cani nei canili e come vengono gestiti poi dall'amministrazione e anche quanto ci costano guardate che siano stati abbandonati che abbiano vissuto solo da randaggi oppure siano stati raccolti sul ciglio della strada feriti dopo un investimento il loro destino è sempre lo stesso finiscono nella gabbia di un canile un luogo dove sì ci si prende cura di loro ma dove gli animali vivono per la maggior parte del tempo chiusi in un recinto ma qual è la situazione nella nostra città la cura e la gestione delle strutture d'accoglienza pubbliche per cani e gatti sono a carico del comune di Roma i quattro canili municipali di Roma ospitano circa 1650 animali che sono suddivisi in quattro strutture il canile della Muratella che è il più grande l'ex cinodromo a Ponte Marconi il canile chiamato Ex Poverello a Vitinia e la Valle dei Cuccioli a Villa Borghese che non è un vero e proprio canile ma un piccolo rifugio per animali e animali a quattro zampe la struttura più grande resta quella della Muratella che nell'ultimo anno ha colto più di 2000 animali tutti i canili comunali che sono sostanzialmente quattro strutture comunali sono gestite dalla stessa associazione AVCPP volontari di Porta Portese sostanzialmente nei fatti da più di dieci anni dal 1997 che questa associazione si occupa in via diciamo esclusiva di tutti i quattro i canili comunali tramite questa convenzione quindi tramite affidamento diretto sostanzialmente in realtà per l'assegnazione dei canili non c'è mai stato un bando pubblico la denuncia era arrivata dall'associazione dei consumatori codici ed è quella per la tutela degli animali Earth che avevano diffidato il Campidoglio secondo le due associazioni i canili municipali della capitale sono tutti fuori norma e senza autorizzazione poiché gestiti da un'associazione la VCCP che appunto non ha mai dovuto superare alcun bando pubblico per ottenerne l'affidamento la convenzione veniva prorogata di anno in anno invece aspettata adesso che venga diciamo aperta anche a tutti no? nelle more dell'esecuzione della gara chiaramente la convenzione viene prorogata perché non si può creare un vuoto gestionale quindi il soggetto gestore deve rimanere in realtà se la prima manifestazione di interesse del 2008 fosse arrivata a conclusione già dal 2008 avremmo potuto noi o un altro soggetto vincitore essere a pieno titolo vincitore di gara a gestire i canili invece a tutt'oggi siamo ancora in questo limbo che ci attira critiche ma non certo per la nostra volontà il paradosso è che lo stesso comune nel documento di avviso per il reperimento di manifestazione di interesse per la gestione dei canili comunali scrive allo stato degli atti non è possibile indire alcuna gara per la gestione dei canili e gattilino comunali in quanto le strutture comunali in oggetto non risultano dotate di tutti i requisiti strutturali e delle attrezzature previste insomma i canili non sono a norma dunque una vicenda complicata davvero questa romana che però ci riporta su un tema anche degli investimenti dottoressa Romagnoli nella prevenzione e nella cura di questi animali che hanno una ricaduta dicevamo su anche noi cittadini romani le casse del comune sono vuote e invece bisogna investire allora le chiedo anche a livello nazionale cosa si può fare per prevenire questi fenomeni cioè mi riferisco al randaggismo e dunque poi alla necessità di accogliere questi cani nei canili in queste situazioni che abbiamo visto ma guardi come prima e poco anzi dicevamo bisogna focalizzare l'attenzione e dare priorità sul discorso preventivo quindi anagrafe e sterilizzazione ora per non entrare in scelte di politiche invece mi riallaccio un attimo a quello che tempo fa disse il ministro Lorenzin proprio in tema di utilizzazione di risorse finanziarie economiche per il settore della tutela degli animali d'affezione e di lotta randaggismo dicendo che prima di Dudu doveva venire la diciamo la nonna Maria e con le sue medicine ora io sposterai il problema cioè direi una contestazione viene sempre fatta direi al ministro guardi ma perché ci occupiamo di questo quando i problemi sono altri no? ma non è così perché occorrebbe capire quanto costerebbe molto di più alla collettività non occuparsi del problema perché non occuparsi del problema significherebbe ad esempio non avere solo 300.000 cani randaggi sul territorio ma averne molti di più quindi con un rischio di maggiori aggressioni alla popolazione animale di allevamento agli stessi animali d'affezione alle persone non occuparsi del problema significherebbe non avere una popolazione monitorata sotto il punto di vista sanitario e quindi la possibilità della trasmissione di malattie infettive tra gli animali ma anche l'uomo significherebbe minacciare la biodiversità gli animali selvatici la fauna selvatica non occuparsi del problema significherebbe avere un degrado maggiore nelle città per il problema poi del rivestamento di questi animali che si trovano liberi a dover reperire cibo e quindi un degrado maggiore ma soprattutto significherebbe andare ancora incontro ad uno stato ancora più emergenziale che poi vogliamo fare con i paesi dell'est che peraltro hanno attuato una politica di autonassia di massa che peraltro al di là del discorso etico che è inaccettabile anche per un paese civile come io penso sia il nostro ma al di là del discorso etico non è proprio perseguibile da un punto di vista scientifico l'autonasia di massa perché una volta che tu hai liberato il territorio con l'autonasia di tot cani o gatti subito dopo quel territorio si ripopola con altri animali quindi non si va a risolvere il problema ancora di più perché trovano ricoveri e trovano alimento per cui bisogna affrontare il problema investendo delle risorse sicuramente sono d'accordo che magari margini di ottimizzazione su queste risorse e sulle attività sicuramente ci possono essere voi vi state muovendo anche per chiedere una revisione comunque della legge a cui faceva riferimento lei stessa poco fa sì sì noi abbiamo avuto un'audizione in Parlamento proprio in tema di revisione e aggiornamento della legge 281 che ormai è data a 1991 e abbiamo accorso proprio di incentivare tutte quelle attività di prevenzione che vanno dall'anagrafe alla sterilizzazione come strumento proprio dal punto di vista scientifico adatto per contenere la problematica certo che senza un'educazione corretta corretta del cittadino nelle istituzioni nell'associazionismo infatti i dati dopo 23 anni sono lì a parlare chiaro quindi insomma ancora molto si può fare bisogna spendersi ancora una volta in appelli anche alla popolazione a chi magari in questo momento ha un cane in casa sta programmando le vacanze estive ci sono soluzioni che non sono quelle dell'abbandono che farebbero evidentemente prima di tutto soffrire l'animale con tutte le conseguenze che mi pare abbiamo ampiamente illustrato con la dottoressa Romagnoli ci sono delle soluzioni alternative si possono trovare dei modi ma guardi io in maniera proprio provocatoria invece di farti 10 giorni di vacanze te ne fai 8 di giorni di vacanze e il costo degli altri 2 giorni di vacanze lo investi per portare il tuo animale in una buona pensione esistono esistono al ritorno dei tuoi 8 giorni di vacanza vai a riprendere il tuo animale ecco forse abbiamo ridotto il danno sicuramente abbiamo fatto il bene di questo animale oltre a non aver contribuito ad arricchire quella popolazione di randaggi che abbiamo detto crea i danni così seri tra l'altro possiamo anche dire che oggi come oggi ci sono per fortuna maggior numero di strutture pronte ad accogliere gli animali faccio sempre il raffronto con quello che accadeva qualche decennio fa oggi anche in considerazione del fatto che tante famiglie hanno un cane in casa tante strutture alberghiere ricettive di vario genere a vario titolo accolgono cani specie se di piccola o media taglia verissimo quindi anche questa può essere una soluzione scegliere spiagge attrezzate quindi scegliere queste strutture ma soprattutto dottoressa Romagnoli siamo in conclusione fate anagrafare il vostro cane anagrafare e sterilizzare perché può sembrare una violenza questa ma non lo è guardi anche con le associazioni animaliste per cui chi più di loro sono strumenti proprio di di lotta proprio contro il randaggismo non si prevarica non si danneggia la salute dell'animale soprattutto ed è veramente ripeto un atto di amore che fai nei confronti del tuo animale bisogna davvero rifletterci io ringrazio davvero la vicepresidente della Cimevep vi ricordo che c'è un sito che è veterinariapreventiva.it dove potete conoscere nel dettaglio l'attività della società e tutte anche le indicazioni che vengono fornite è ricco e dettagliato questo sito quindi potete navigare per saperne di più grazie allora la nostra ospite grazie per questa interessante conversazione ci fermiamo adesso una breve pausa ma restate con noi tra poco cambieremo argomento andremo a parlare di alcune iniziative che sono previste nel fine settimana una in particolare rivolta ai bambini della zona della Marranella molto particolare ma parleremo anche di salute con un open day una giornata aperta all'IDI l'istituto dermopatico dell'Immacolata che offre pensate delle visite gratuite e non soltanto dermatologiche ne parliamo tra poco restate con noi grazie